Rafforzare la collaborazione tra servizio sanitario regionale e università integrando formazione, ricerca, assistenza e didattica. Questi gli ambiti in cui si svilupperà l'alleanza tra Regione Toscana e le tre università di Firenze, Pisa e Siena, grazie al protocollo d'intesa firmato dal Presidente della Regione con l'Assessore al Diritto alla Salute e Rettori Luigi Dei, Francesco Frati, Paolo Maria Mancarella. Credo che possiamo dare un contributo importante per il miglioramento della qualità dell'assistenza sanitaria in Toscana, grazie al fatto che in queste aziende ospedaliere e universitarie, proprio grazie all'università, si porta avanti informazione, ricerca e assistenza sanitaria, ovviamente come se fosse un'unica missione. Un modo per garantire qualità e sostenibilità del servizio sanitario regionale, assicurare la qualità della formazione del personale medico e sanitario, e promuovere lo sviluppo della ricerca biomedica. Ci sono temi che riguardano per esempio le attività formative e quindi la capacità di organizzare corsi, penso ai corsi di infermieristica, penso ai corsi tecnici di laboratorio, che si svolgono non soltanto nelle sedi universitarie ma anche nelle sedi decentrate, permettendo così di portare e di mettere a disposizione in maniera più capillare di tutti gli studenti della Toscana l'accesso a questo tipo di formazione. In questo protocollo d'intesa ci sono importanti novità rispetto al passato che rafforzano il ruolo di tutte le università toscane. Lo rinforza dal punto di vista del ruolo nella formazione delle università, nella formazione dei medici, nella ricerca, dell'assistenza in tutti i settori che riguardano la sanità, ci sono delle piccole novità nel protocollo rispetto al passato che dovrebbero rendere ancora più forte il sistema regionale, come il sistema regionale. Regione e Università quindi svilupperanno metodi e strumenti di collaborazione per perseguire obiettivi di qualità, efficienza, efficace e competitività del servizio sanitario pubblico. Grazie. 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 Grazie.